Tornano a Lecce le giornate del lavoro organizzate dalla CGL e giunte alla sesta edizione. Vieni dal 20 al 22 settembre nel capoluogo Salentino a vivere un evento unico nel suo genere. Il lavoro sarà al centro di dibattiti, incontri e concerti con la presenza di ospiti del mondo politico, culturale e sindacale. Il 20, 21 e 22 settembre partecipa alle giornate del lavoro della CGL.